Salve, mi chiamo Maria Piaturiello, sono una criminologa forense e faccio parte del comitato scientifico del premio Antonio Ferraris. In realtà dietro c'è tutta l'associazione Verbulandia Art e la presidentessa Regina Resta, una mia grande amica, e con questa associazione stiamo cercando oltre a questo premio di portare avanti itinerande per l'Italia i messaggi contro la violenza di genere. Oggi in qualità di comitato scientifico avrò l'onore di premiare molti insigniti d'eccellenza le istituzioni, avremo una ministra e poi senatori, ambasciate, insomma personaggi di grande spessore che hanno lavorato per il paese perché questo soprattutto è anche un premio alla carriera. Stamattina c'è stata la prima parte, sono stati premiati tanti artisti, tanti scrittori, tanti poeti. Adesso ci sarà la seconda parte, più che altro la saggistica, e poi l'ultima parte è quella degli insigniti. Un bellissimo premio, questo è il decennale, quindi quest'anno abbiamo voluto scegliere questa location prestigiosa e anche grande per accogliere tutti gli ospiti. Quindi spero di aver portato un sorriso in questo premio e in bocca al lupo a tutti noi. Grazie.